Allora, in questo municipio abbiamo scoperto, e prima di tutto l'hanno scoperto da anni i nostri consiglieri qui, Paolo Ferrara, ma tutto il gruppo, tutti gli attivisti, abbiamo scoperto che nel municipio ci sono persone che hanno regalato ai privati intere aree, le hanno regalate cose pubbliche, regalate ai privati, senza alcuna trasparenza. Bravi, allora c'è una novità, in parte questi signori stanno in galera, gli altri devono andare via subito, devono lasciare il posto nel 2016 a un governo sano di questo municipio, di Ostia, dell'entroterra, devono andare via. E noi cosa faremo nel 2016? Ci riprenderemo tutte queste case, queste aree, queste scuole regalate vergognosamente ai privati, senza dire nulla a nessuno. Ce le riprenderemo, torneremo padroni delle cose pubbliche.